...utilizzati durante il volo. Selezionate adesso la modalità aerea. Computer portatili devono essere spenti e collocati sotto il sedile davanti a voi con gli appositi vani durante le fasi di rollaggio, decollo e atterraggio. E' severamente evitato fumare. Vi ringraziamo per la vostra attenzione. Levi, selezionati, ben on board di frecruzzi di bagnole, giacchieti, le panni giostra voi, a hand. Signori e signori, a voi di quest'aereo, troverete il vostro giubbato di salvataggio nel pannello sopra le vostre teste. Signor Spasero, selezionati, il tipo di avione costa la nexale costa ravita nella parte superiora. La vostra attenzione. Insomma, guarda, sucasale. La LETSA GRASQUE ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.